Gli auguri ai lucchesi di Monsignor Castellani, il tradizionale intervento natalizio dell'Arcivescovo di Lucca. Il Natale del Noi al Tempo dell'Io, nel complesso di San Francesco, il pranzo offerto dalla comunità di Sant'Egidio ai più bisognosi. L'albero che brucia annuncia un ottimo 2018, il rito che si consuma ogni anno a Camporgiana visto il fumo andare verso l'alto, secondo le credenze popolari, sarà un ottimo 2018. I regali di Alto Pascio nelle zone del terremoto, gemellaggio tra i paesi del Tau e le comunità di accumulo e amatrice nel segno della tradizione gastronomica. Lo sport ACF Lucchese vince il derby con il Pisa, le ragazze rossonere si impongono 2-0 e fanno un altro balzo in avanti in classifica. Ben trovati dagli studi del TG Noi e naturalmente buon Natale. Apriamo il nostro telegiornale con il tradizionale messaggio dell'Arcivescovo Italo Castellani. Vorrei farvi gli auguri partendo da un brano della scrittura, l'antica scrittura, che annuncia la venuta di Gesù, che dice il lupo e l'agnello pascoleranno insieme. Com'è possibile che il lupo e l'agnello pascolino insieme? Sì, la venuta di Gesù, sebbene accolto nella sua profondità, del messaggio che è Gesù che si fa uomo, per farci uomini, uomini che a volte dentro abbiamo un po' di violenza come il lupo, invece no. Ci dice, guarda, sì, il cuore buono è come un agnello che è mite. Ecco, allora facciamo sì, facciamo nascere attorno a noi Gesù, il Vangelo di Dio per noi. E allora il lupo e l'agnello, che vivono anche dentro di noi, pure nelle nostre relazioni quotidiane, ecco, impareranno a vivere insieme. Questo è il Natale. Mettiamo al centro la vita Gesù, Vangelo di Dio. Andiamo avanti, ci spostiamo nel complesso di San Francesco, il pranzo di Natale offerto ai più poveri dalla comunità di Sant'Egidio. Il pranzo di Natale con i poveri nella comunità di Sant'Egidio quest'anno ha cambiato sede e si è spostato nel complesso monumentale San Francesco, con un secondo evento dedicato agli anziani che si è attenuto in contemporanea alla Piacasa. Centinaia di persone hanno pranzato assieme nel giorno di Natale, un gesto che in un tempo, come quello che stiamo attraversando, caratterizzato da individualismi e nuove diffuse paure, diviene ancora più significativo. L'unica strada possibile per costruire il futuro, insegna la comunità di Sant'Egidio, è imparare a vivere assieme. Siamo tanti in tanti oggi qui a passare questa festa di Natale con la comunità di Sant'Egidio. Abbiamo apparecchiato per oltre 200 persone, sono persone fragili della nostra città, sono anziani soli, sono famiglie che non hanno altro posto dove fare festa, sono persone povere, sole, che non hanno dove dormire, hanno perso la casa e il lavoro. Per noi oggi essere qui insieme vuol dire costruire un popolo, un popolo di amicizia, dove si confonde chi serve e chi è servito. Il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio è una risposta alle nostre città che lasciano a immagini molto spesso queste persone fragili. C'è bisogno di solidarietà in un tempo di crisi, soprattutto delle relazioni. Il Natale del Noi al tempo dell'Io, questo è il titolo voluto per il 2017, perché troppo spesso ci si concentra sull'Io, dimenticando di appartenere ad un Noi più grande, che può dare un senso all'esistenza. A questo atteggiamento Sant'Egidio intende contrapporre quello della riconoscenza. Ognuno di noi ha ricevuto molto, il desiderio di restituire ci spinge a servire gli altri. Porcari piange un concittadino illustre, si è spento la vigilia di Natale a 83 anni, Giovanni Menchetti, che tra il 64 e il 70 fu il più giovane sindaco nella storia del paese di Porcari. La sua tradizione continua oggi con la figlia Roberta, assessore nella giunta Fornaciari. Lo stesso sindaco ha salutato la scomparsa di un uomo umile e mite, si legge in una nota, persona riservata e cordiale, che ha dimostrato un alto senso civico, un abbraccio commosso dell'amministrazione della comunità. I funerali nel giorno di Santo Stefano alle 15, nella chiesa parrocchiale di Porcari. Andiamo a Camporgiano, la sera della vigilia, al tradizionale rito dell'albero che brucia. L'albero che brucia la notte di Natale è il rito che si consuma ogni anno a Camporgiano, una tradizione che viene da lontano. Oggi la struttura, che assume la forma di un albero, viene realizzata con ramaglie e diabete. Nel passato era rigorosamente di ginepro. Fino agli inizi del secolo scorso l'albero veniva realizzato nel centro del paese, ai piedi della Rocca Estense. Ora è il piazzale della chiesa ad ospitare il rito. La sera della vigilia di Natale, in diretta su Noi TV, il gruppo di giovani che lo hanno realizzato ha provveduto all'accensione. Da quel momento, l'albero che brucia assume significati arcaici. Il calore delle fiamme serviva, nell'immaginario popolare, a scaldare Gesù Bambino nella mangiatoia. Mentre a seconda di come ardeva il falò e di come arde adesso, si può intuire quale sarà la prossima annata quanto ha raccolto. Quest'anno, la totale assenza di vento ha fatto sì che le fiamme e il fumo si propagassero verso l'alto in modo verticale, per cui il nuovo anno sarà un ottimo anno. La terra sarà feconda e darà ottimi raccolti. Come tradizione, la notte di Natale Noi TV ha mandato in onda la diretta della celebrazione della Santa Messa per il 2017. siamo rimasti a Camporgiano, nella chiesa di San Giacomo, dove la celebrazione è stata ufficiata da Don Jeanne. La liturgia ha visto la presenza del coro locale con musica e voci dirette da Manola Rocchiccioli. Adesso ci spostiamo ad accumuli nelle zone del terremoto. Gli aiuti arrivati dal Topascio, portati direttamente dal sindaco Sara D'Ambrosio e dalla Giunta, con in più la volontà di creare un progetto di legame tra accumuli, amatrice ed Alto Pascio. Un gemellaggio enogastronomico tra accumuli, amatrice e Alto Pascio attraverso un sistema che tenda a valorizzare i prodotti tipici dei tre territori. Questa è l'idea lanciata proprio ad accumuli dal sindaco di Alto Pascio Sara D'Ambrosio e dal primo cittadino locale Stefano Petrucci. Tutto ciò è avvenuto durante la festa di Natale organizzata dal comune di Alto Pascio assieme ai volontari della Misericordia, BSM 20 e vari produttori storici di pane altopascese. Un'iniziativa voluta per sostenere in modo concreto l'economia locale e promuovere ciò che di caratteristico hanno i tre paesi. La tradizione che unisce, questo il filo conduttore, è infatti quella legata alle qualità gastronomiche. La comunità di Alto Pascio è scesa ad accumuli per una nuova iniziativa carica di solidarietà e voglia di comunità che ha visto la partecipazione di tanti bambini e delle loro famiglie che all'uscita di scuola sono stati accolti da un babbo natale di eccezione. Su una slitta di grandi dimensioni la speciale ciurma toscana ha portato un carico di dolci, panettoni, pandori e prodotti preparati a mano dai panificatori altopascesi. A gennaio, sempre da Alto Pascio, verranno spedite ad accumuli alcune pensiline altisismiche e ad amatrice nuove panchine. Tutto questo acquistato con i fondi donati dagli altopascesi durante questo e lo scorso anno. Andiamo a Porcari per vedere speciali presepi. Piccoli capolavori di prospettiva, minuziose e fedeli riproduzioni di scenari, ambientazioni e atmosfere della natività. Sono i presepi dell'esposizione Mano nella mano, stupore e meraviglia nel presepe, curata da Paola del Carlo e allestita nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi a Porcari fino al 21 gennaio. In esposizione, diverse rappresentazioni in diorami, realizzazioni sceniche in scala ridotta che ricreano scene di vita di vario genere, statue e natività in terracotta realizzate in massima parte dall'artista porcarese, ma anche da altri presepisti italiani. Dalla nascita di Gesù fino alla sua crocifissione, passando dalla fuga in Egitto all'arresto nel Giardino degli Olivi e l'Adorazione dei Magi. Il tutto realizzato con una cura estrema nei dettagli dei personaggi e delle ambientazioni, con un sapiente uso di luce ed effetti scenografici teatrali, tali da trasformare le piccole scene in giochi prospettici estremamente suggestivi. È tutto per la prima parte del nostro telegiornale, un breve break e poi la pagina sportiva.